una grande luna illuminata ai piedi dell'immacolata come scrive la sagra scrittura regina della pace manifestazione di preghiera e di pace ieri a san masiano colbe a lecce la presenza di tanti bambini e famiglie un modo di dire recita quando il saggio indica la luna lo stolto guarda il dito laddove la luna indica la ragione la luce la riflessione l'amore ad aprirsi alla meraviglia dell'inaspettato sempre di più il cielo stellato rimane lo spettacolo più suggestivo e affascinante che possa presentarsi ai nostri occhi fin da bambini perché in tutto quello splendore c'è tutta la bellezza la grandezza di dio che ci vede e ci ama sono molti santi e gli scrittori che hanno evocato la bellezza delle notti illuminate dalle stelle invece le notti di guerra sono solcate da scie luminose di morte in uno spazio contemplativo intimo e accogliente e seppur maestoso ermes mangelardo visionario artista pugliese dedito alla creazione di mondi immaginari attraverso la luce il suono ha creato una maestosa luna avvicinandosi e circunnavicando l'astro è stato possibile scoprire contemporaneamente le mille facce di questo attraente satellite congelandolo in un prezioso ricordo senza tempo ecco qui la grande luna la luce la pace a cui l'uomo anela sempre